Benvenuti nel canale Fabio Pitch. Vittoria Lucrezia, la figlia del secondo genito dell'ex premier Silvio Berlusconi, potrebbe non essere spesso al centro dell'attenzione, ma fa sicuramente parte della famiglia. Questo è stato evidente nel suo matrimonio del 2019, nella villa di zia Marina Berlusconi. Nel 2021, la prima genita di Pier Silvio è diventata anche madre, dando il benvenuto a una figlia di nome Olivia. Il primo a rendere pubblico questo episodio è stato lo stesso Silvio Berlusconi, che nel libro di Alan Friedman My Way ha raccontato della precoce paternità di Dudy. Dudy è il secondo figlio di Pier Silvio, che nel 1990 frequentava la modella Emanuela Mussida. Da quella relazione è nata Vittoria Lucrezia. Ma cosa sappiamo oggi di una delle nipoti dell'ex premier, che nel 2021 lo ha reso anche bisnonno con la nascita di Olivia? Da quanto sappiamo, il rapporto tra padre e figlia è sempre stato complicato. Non è un caso, infatti, che ci siano pochissime foto di Pier Silvio con sua figlia Vittoria Lucrezia. Per anni il rapporto con Lucrezia è stato complicato. Ero giovane, forse troppo. E sono stato un padre oggettivamente non molto presente. Per fortuna, però, sono cresciuto, così come lei. Da quando è più grande, la nostra relazione è diventata più autentica e solida. Ora stare insieme non è un dovere, ma un piacere, ha raccontato Pier Silvio qualche anno fa. Sappiamo che Vittoria Lucrezia non ha mai aperto profili sui social media, né su Facebook, né su Instagram. E che durante i suoi anni universitari ha dimostrato un grande interesse per l'arte, conseguendo una laurea in storia dell'arte presso l'Università degli Studi di Milano. In seguito, ha continuato a studiare e lavorare negli Stati Uniti. Lucrezia Vittoria Berlusconi non ha mai rilasciato interviste, ed è molto riservata riguardo alla sua vita privata e familiare. Sono disponibili solo pochissime foto online che mostrano chiaramente il suo volto.